Lello, grazie per avermi lanciato la sfida ed io ho scelto la salsa burger Heinz. Per prima cosa vado a tostare il pane in padella per entrambi i lati. Cuocio un hamburger e taglio a fettine più o meno sottili la mozzarella, pane, salsa burger a sentimento, la nostra carne è ben rosolata e un cucchiaio generoso di pesto di basilico. Un po' di insalatina riccia per dare freschezza, pomodori sott'olio, mozzarella e voilà. Andrei, adesso tocca a te, vediamo che sai fare.